Bella ragazzi, qua è Ghiotto Uragano, Roma all'Olimpico. Roma batte la Sverona 3-1, grande prestazione della Roma, veramente di carattere e nonostante appunto le difficoltà anche che ha vissuto l'ambiente giallorosso, sappiamo l'esclusione di Zeko che oggi era in tribuna, Zeko probabilmente rimarrà a Roma e quindi secondo me se la Roma recuperasse Zeko, io da Laziale spero di no, è una forte candidata ai primi quattro posti. Al momento la Roma è terza, quindi comunque si dimostra una squadra forte, adesso con un El Charau in più che sicuramente può fare bene anche perché è un giocatore motivato e oggi l'hanno vinta grazie al fattore M, Mancini, Mkhitaryan e Maioral, diciamo che uno è una sentenza quest'anno Eric Mkhitaryan, l'armeno terribile, e invece un altro è una bella sorpresa, al di là poi del gol di Mancini che già aveva segnato contro l'Inter, quindi un abitué del gol da calcio d'angolo di testa, ma Borca Maioral, oggi voglio fare un focus su questo giocatore che quest'estate era costato sull'altra sponda del Tever, quella bianco celeste, io ero molto contento del probabile, del possibile arrivo di Borca Maioral perché lo consideravo un giocatore molto bravo a dialogare con i compagni, che sa fare anche gol e lo sta dimostrando, un giocatore tecnicamente bravo e soprattutto un giocatore intelligente, oggi l'ha dimostrato. Intanto ha seglato il suo nono gol, che è il suo record personale nella sua carriera e sicuramente lo supererà perché l'ha già eguagliato a metà campionato praticamente, e oltre al gol appunto che è un gol da opportunista, diciamo che Maioral deve migliorare un po' in quello, a volte non è molto freddo, però oggi è stato freddo, lo è stato, e poi l'assist a Nikitarian dimostra l'intelligenza di questo giocatore perché la Roma la sblocca come detto da un calcio d'angolo di Pellegrini che anche oggi ha giocato molto bene, che appunto è proprio uno dei giocatori più importanti di questa Roma, colpo di ass di Mancini. Poi, appunto, Maioral lanciato a rete, si defila troppo, Silvestri era uscito bene, lui capisce intelligentemente che non può più tirare, gira su se stesso, la serva Nikitarian anche poi dimostra la grande qualità, ma soprattutto la grande intelligenza che ha questo giocatore perché da quella posizione lì ti aspetti un destro sul secondo palo, infatti Silvestri si aspettava quello, ha fatto un passo di troppo di là e Nikitarian l'ha sorpreso sul primo palo, è un tiro anche molto difficile da fare e quindi questo ti fa capire la velocità di pensiero che solo i campioni hanno e Nikitarian è sicuramente un campione, ecco, diciamo, nella dimensione della Serie A è uno dei più forti. E poi, diciamo, Verona non pervenuto nel... Poi appunto, è arrivato il terzo gol, abbiamo detto, di Maioral su tiro di Pellegrini, quindi Pellegrini è stata una sentenza in questa partita. Certo, Verona male, ma il Verona, ragazzi, secondo me, è tanto che la partita è finita ora, sta facendo di più di quello che io mi aspettassi e che loro stessi aspettavano, perché il Verona, se guardiamo i giocatori, ha tanti giovani, ha cambiato tanto, quindi questo è grande merito del lavoro di Juric con un allenatore bravissimo, secondo me, e che meriterebbe anche, forse, piazza più importante, anche se Verona lo è una piazza già comunque considerevole, male, nel primo tempo non ci hanno capito nulla, infatti i gol della Roma sono arrivati, mi pare, in una decina di minuti, quindi veramente hanno avuto un blackout. Secondo tempo ci hanno provato con carattere, è entrato, secondo me, bene Lasagna, che farà bene, ha segnato Colle e ha avuto anche qualche piccola occasione per riaprirla, però comunque oggi vittoria strameritata della Roma. Ecco, da segnalare Majoral che nel secondo tempo ha faticato, perché cosa è successo? La Roma si è abbassata, veniva cercato con lanci lunghi, Majoral non è un giocatore che fa salire la squadra come ad esempio Zecco, non è capace a fare quel gioco lì, non è bravo di testa, quindi diciamo che la Lazio, ad esempio, aveva bisogno più di un giocatore, è bravo di testa come Murici, poi sì, Murici non sta facendo benissimo, ora sta ingranando e speriamo che continui così, Majoral è più un giocatore di manovra che alla Roma serve, però senza Zecco è dura andare avanti tutto il campionato senza Zecco, quindi vediamo se recuperaranno Zecco. Comunque, Roma saldamente al terzo posto, io sono sempre comunque da esterno un ammiratore di Fonseca, secondo me le critiche sono state anche eccessive dopo il derby e tutto, certo, fa male perdere un derby così, però Fonseca, tenetevelo stretto, fidatevi perché è un bravo allenatore. Ragazzi, iscrivetevi al canale, like al video, recuperate anche il video di Lazio-Atalanta che è uscito prima, bella.